Salve gente e benvenuti sul canale YouTube MaxCalifornia86. Volevo ricordarvi che settimana prossima tornerò a fare le live sul mio canale YouTube MaxCalifornia86 per il format al Max Qualche Chiacchiera. Ho contattato già degli ospiti che mi hanno confermato la loro presenza. Dobbiamo soltanto metterci d'accordo su come organizzarci. Vi anticipo che la diretta ci sarà mercoledì 27 aprile al solito orario, cioè quello delle 21 e 30. Poi nei prossimi giorni su Instagram con un post o una storia vi aggiornerò. Per il video di oggi ho deciso di riprendere la rubrica classifiche cineseriali. Era da un po' di mesi che non facevo video del genere. E quindi siccome Jim Carrey qualche giorno fa, prima dell'uscita di Sonic 2, ha annunciato di voler abbandonare il mondo del cinema, ho deciso di fare una top 10 dei suoi film, che vuole essere anche un omaggio a uno dei miei attori preferiti. Comunque ve ne parlo dopo la sigla! Ora possiamo dare inizio a questa classifica. Al decimo posto ho deciso di mettere Sonic il film, uscito nel febbraio del 2020, poche settimane prima dell'arrivo della pandemia e quindi conseguente lockdown. Film che ha realizzato un grande incasso, più di 300 milioni. E a mio avviso uno dei migliori film sui videogiochi. Al nono posto ho inserito Yes Man, film non tanto recente, nel quale Jim Carrey, dopo aver partecipato a un seminario, è costretto a dire sempre sì. Poi all'ottavo posto abbiamo A Christmas Carol, tratto da Canto di Natale di Charles Deacon, con Jim Carrey nei panni dell'anziano Scrooge. Al settimo posto abbiamo Il Grinch, nel quale Jim Carrey interpreta questa creatura verde pelosa che abitava nella città di chi non so, e che poi in seguito a degli eventi sgradevoli, ha deciso di andare a vivere isolato, sopra una montagna. Sesto posto Una settimana da Dio, con Jim Carrey che prende il posto di Dio, interpretato da Morgan Freeman, per una settimana, e Jennifer Aniston nei panni della sua compagna. Al quinto posto è Sventura Missione Africa, con il famoso detective che viene chiamato a risolvere un caso in un paese africano. Al quarto posto è Sventura La Chiappa Animali, primo film con il famoso detective Ventura, che indaga sulla scomparsa della mascotte dei Miami Dolphin, un delfino. Poi al terzo posto abbiamo The Mask, nel quale Jim Carrey interpreta un impiegato di banca, che si trasforma una volta che indossa una maschera. Poi al secondo posto abbiamo Scemo più Scemo, nel quale Jim Carrey si ritrova insieme a un suo amico nella città di Aspen, in Colorado, dove devono ritrovare una donna che ha lasciato una borsa nel taxi. E poi abbiamo The Truman Show, un film nel quale Jim Carrey dimostra tutte le sue abilità da attore drammatico, discostandosi dalle sue solite commedie e regalandoci una grande performance che avrebbe meritato un grande premio, tipo l'Oscar. La sua grande fan spero che ci ripensi, tornando indietro sulla decisione, regalandoci altre grandi interpretazioni. Non so se stava scherzando o no, ma dopo l'annuncio del suo addio al mondo del cinema, l'attore canadese aveva dichiarato che sarebbe tornato a recitare soltanto se Christopher Nolan avesse diretto un Ace Ventura 3. Non so se alla fine succederà mai una cosa del genere perché Ace Ventura 3 è un tipo di film che non si adatta allo stile registico di Christopher Nolan. Staremo a vedere cosa succederà nei prossimi mesi o nei prossimi anni. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanella delle notifiche se non volete perdervi nulla di quello che pubblicherò qui sul canale YouTube Max California 86 nelle prossime settimane. Nei commenti fatemi sapere quanti di questi film della top 10 avevate visto, se siete fan di Jim Carrey, se apprezzate questa tipologia volete propormi altre top 10 e quali video volete vedere sul canale nelle prossime settimane. In descrizione trovate i link ai miei profili Facebook, Instagram, Twitter e Telegram nel quale trovate il mio gruppo Max California 86 al quale potete tranquillamente iscrivervi se state cercando non solo notizie sul cinema e le serie TV ma anche sui video che pubblico sul mio canale YouTube Max California 86. Un saluto e ad un prossimo video qui sul canale YouTube Max California 86 Grazie a tutti